Ecco, questa qui è una bella ripresa dall'alto di Brunico, San Gorgio, Gais e la Valle Aurina. In fondo, lontano, lontano, si vede Campo Ture, Cereto e le ultime montagne in fondo sono l'altima. Beh, insomma, non c'è di chiesa, non farebbe tanto bello. Questo qui davanti a noi è facile, poi c'è il segno del suo ristorante di Puglia. Sì, che cosa dobbiamo dirvi? Non c'è tutto nulla, ora che mi siano tornati. Sous e vediamo qui.